Ciao a tutti, noi siamo la Cantina Colleoncinano, vinifichiamo dal 2005, siamo arrivati al nostro quindicesimo anno e tra i vari vini che produciamo, i nostri 20 ettari, oggi parliamo del Tribiano Spoletino. Siamo all'interno della Spoleto Doc, ci troviamo a poca distanza dalla città di Spoleto e il Tribiano Spoletino noi lo produciamo in varie versioni, quindi siamo i maggiori produttori in Umbria di Tribiano Spoletino. Crediamo molto nelle potenzialità di questo vitigno, lo produciamo in varie etichette, Tribiano Spoletino superiore filtrato, la versione non filtrata sempre superiore, lo sfumante metodo Charmant 3 mesi di affinamento su lieviti e un nuovo prodotto che è l'Ancestrale, un frizzante bianco Umbria IGT. Tra le caratteristiche di questo vitigno di cui ne abbiamo seglietta nel nostro vigneto c'è quella della grande complessità. Potete vedere il colore, un bellissimo giallo dorato con delle speccate note agrumate, una grande stabilità e soprattutto tanta longevità. Quindi è un vino particolarmente strutturato con grande acidità, longevo, quindi potete tenerlo tranquillamente in cantina per lungo tempo. Tra l'altro è un vino che si abbina benissimo a tante preparazioni gastronomiche, si abbina molto bene con dei formaggi media stagionatura, con delle preparazioni di pesce e anche con piatti di carne bianca, anche strutturati. Cin, salute!